ci sono segreti che rimangono sepolti per sempre segreti che non possono essere rivelati manco pocazzi ma da oggi questi segreti sono diventati di dominio pubblico venite a scoprire con me i più sconvolgenti e segreti dell'universo bimbi minchia e cutane minorenni nuove rivelazioni c'è da avere paura uh la la uh la la le patatone della sorellin bei bambocci guardate dove siamo tornati oggi siamo tornati su in segreto episodio 54 dopo una lunghissima pausa infernale siamo di nuovo qui ad analizzare i messaggi dei subumani dei bimbi minchia delle puttane minorenni degli invasati dei segaioli dei pompinari dei ciucciapalle insomma siamo qui ad analizzare la new generation di gente fuori dal comune fuori di testa completamente bene prima di iniziare mettete like e condividete il video perché se non ho like non ho condivisioni questi questi video non vanno da nessuna parte e visto che youtube ormai è diventato una fogna settica bisogna o fare flame oppure avere like e condivisioni se volete la qualità mettete like e condivisioni e guardate i video altrimenti la qualità svanisce svanisce per il flame io vi avviso perché ovviamente youtube sta diventando così e quindi io porto solo avvisi ovviamente questa non è mica una minaccia è un avviso è un avviso di garanzia quindi state tranquilli allora iniziamo subito donna di 16 anni da quando i miei genitori mi hanno detto di andare a scuola con l'autobus lascio sempre un bigliettino nella retina del sedile ad un ragazzo che si siede sempre nello stesso mio posto solo in orari diversi lui sa chi sono io non so chi sia lui notate bene questa frase io non so chi sia lui ci siamo promessi che alla fine di questo semestre ci saremmo incontrati oggi abbiamo deciso non sto nella pelle e si scoprì che quel ragazzo che lei non aveva mai visto era in realtà mimuzzo scorreggione 140 chili di puro amore con la passione per le sedicenni e questa ragazza non fu più mai ritrovata tu brutta in cogliona testa di cazzo ritardata queste cose non si fanno perché tu non puoi mettere i bigliettini nel sedile a uno che non hai mai visto tu non puoi sapere se questo è uno della tua stessa età se un cinquantenne in calore se uno di 70 anni con il cazzo floscio non lo puoi sapere quindi queste cose incontrare magari questo è un maniaco sessuale ti violenta tu piange e finisce sempre nella solita manfrina ah come è potuto accadere di qua di là fatevi furbe queste cose non vanno fatte soprattutto avete cellulare no prima di tutto vi sentite col cellulare poi se vedi che la situazione è buona allora lo incontri se no ti attacchi a sto cazzo per la tua ovviamente per la tua sicurezza ma visto che sei un imbecille vai vai e non tornare più a casa andiamo avanti che meglio donna di 20 anni ieri il mio ragazzo mi ha picchiata per la prima volta solo chi subisce una cosa del genere può capire cosa si prova sono fiera di me perché ho capito che è una cosa che non va perdonata assolutamente e non permetterò che riaccada sono anche delusa perché non riesco a spiegarmi come ho fatto a non capire prima che persona fosse beh cara amica non è che lo potevi capire prima perché quando si è innamorati si diventa dei completi imbecilli quando si si innamora si vedono solo i lati positivi quelli negativi non ci appaiono davanti agli occhi e questo tizio che ti ha picchiata non solo è un figlio di puttana testa di cazzo ma soprattutto bisogna fargliela pagare non bisogna che se la cavi così perché magari una prossima sfortunata ragazza che avrà magari picchierà anche lei quindi questo tizio o va denunciato oppure va picchiato selvaggiamente perché le cose o si fanno in una maniera o si fanno nell'altra l'importante è che questa cosa non vada oltre perché non vada lasciata non venga lasciata andare senza una conseguenza perché questo tizio rifarà la stessa cosa visto che oggi non è stato punito quindi ti consiglio di denunciare la cosa e se la denuncia non funziona assoldi un ragazzo di un metro e novanta per pestargli le palle con i piedi come fa la diva del tubo ad Andrea Di Pre ma più forte ovviamente questa è la fogna disumana questa è la fogna disumana questo è uno schifo totale veramente mi dispiace per te però ti consiglio di non fargliela passare liscia è un consiglio proprio da amico fidati andiamo avanti donna di 24 anni ho lavorato con un ragazzo per un anno uscivamo spesso è stata una bella cosa troppo ora mi sono trasferita fuori Italia sono seduta in riva al mare a metà ottobre e mi sono resa conto che diamine mi sono innamorata di lui fanculo di stanza fanculo la ragazza tu dovresti essere qui ad ascoltare le onde del mare con me ma ti rendi conto di quello che cazzo dici cogliona questo è una ragazza perché tu stessa hai detto fanculo la ragazza e allora cosa fai a rovini le coppie ma che merda sei ma che merda sei ma trovate un cazzo lì dove sei no? no devi rovinare la coppia cioè fuori dal normale voi siete una generazione spaccata nel cervello spaccata sei spaccata nel culo poi magari sai cosa succede? che lui molla la sua tizia perché vuole bombarti ti bomba scoprite che non state bene insieme vi mollate avete rovinato non una coppia due quindi immaginate voi quanto siete ritardati tu sei una pazzoide anzi fai così vai al mare vai sotto metti la testa sotto l'acqua cerca qualche conchiglia poi la prendi e te la ficchi in culo così senti le onde del mare uuuuuhuhu ahahahah uuuuuh uomo di 23 anni sono musicista ho pubblicato il mio secondo album da due settimane ma non riesco a darlo via neanche regalandolo oggettivamente non è un capolavoro di sicuro devo migliorare ce la metto tutta ma è immediamente godibile e orecchiabile e musica di sottofondo non capisco se il problema sia io la musica Mi perdo d'animo ma non mollo a costo di produrre musica solo per me Allora ti do due consigli La prima è quella che ho già detto in tanti video Che ormai diventare famosi o comunque cresce in qualcosa È praticamente impossibile se non hai una spintarella Perché? Perché come ho già detto è già stato fatto tutto Le musiche di sottofondo che tu fai Probabilmente neanche lo sai Ma 150 persone le hanno fatte prima di te Non so un film l'hanno già fatto tutti L'hanno già fatto tutto di tutti Quindi crescere è molto difficile Però ti do un consiglio ti do anche una mano Io sto cercando delle musiche di sottofondo da usare gratis E io non pago nessuno Io non sono una puttana un puttaniere Io non pago nessuno Se vuoi utilizzare se vuoi permettermi di utilizzare le tue musiche Scrivimi in privato mandami il tuo materiale E nel caso userò quelle musiche Questo è il massimo che posso fare Per il resto ti dico non mollare E continuo ad andare avanti a produrre musica Perché tanto gli imbecilli che non apprezzano è pieno È pieno Quindi se la musica Ti faccio un esempio Se quella musica l'avesse fatta un tizio famoso Sarebbe diventato Il capolavoro Il capolavoro Il capolavoro Invece l'hai fatta tu che sei un povero stronzo E nessuno te la calcola Quindi questa è come va l'umanità oggi Mettiti il cuore in pace e vivi sereno Andiamo avanti Donna di 33 anni Questa è grande Un mio amico quando avevo 11 anni mi ha praticato nel sesso orale Mi è piaciuto da morire Però poi da quell'episodio non è successo più nulla Il mio primo bacio l'ho dato a 15 anni Cioè di solito però funziona Vedi una volta come funzionava Una volta era la donna che era più furba e si faceva fare un cunnilingus Oggi invece sono gli uomini che si fanno sbocchinare Capito i furboni? E quindi donne svegliatevi Svegliatevi Avete visto questa tizia cosa faceva? Questa ha 33 anni no? Quando la generazione era ancora sana si faceva leccare la patata Non è che la dava così la bocca gratis Vedete fatevi furbe Non è che sbocchinate il primo stronzo che capita minorenne senza barba E quindi fatemi furbe Sveglia Uomo di 24 anni A 24 anni ancora non ho dato il mio primo bacio E nemmeno il resto ovvio E beh vorrei dire cazzo Se non hai baciato cosa fai? Ficchi? Non lo so Nessuna è interessata a me E nemmeno io ho interessato a nessuna in particolare E questo sbagli E qui che sbagli Devi essere interessato a qualcuna A 20 anni ho conosciuto l'unica che mi sia mai piaciuta Le sono stato dietro due anni Le ho chiesto di uscire più volte Mi sono anche dichiarato E ho ricevuto solo dei no Ora sto lasciando perdere Ma temo di restare solo per sempre Beh guarda Hai sbagliato tutto Hai sbagliato tutto Tu non ti devi mai dichiarare Mai Perché quando ti dichiari Ti rendi praticamente vulnerabile E la donna non piace Tu devi essere sempre duro Con il cazzo duro e dire Oh domani ti voglio a pecora Subito Subito E' un ordine E' un ordine Solo così Puoi conquistare una donna al giorno d'oggi Perché non siamo più Nell'epoca delle poesie Delle lettere d'amore Si ci sono qualche ragazza che apprezza Ma Guarda Fidati di me Fidati di me Adesso le devi prendere a pecore Te le devi sbattere Perché la poesia non funziona più Le lettere non funzionano più Le dichiarazioni non funzionano più Dammi retta a me Fidati che ho esperienza da vendere Non esistono più le romanticherie Fidati Fidati Ci saranno certe ragazze a cui piace Ma la maggior parte E fidati che ti capiteranno sempre persone così Vogliono la minchia tanta E l'uomo duro Fidati di me Dammi retta Quindi se vuoi trovare una sorca Cambia atteggiamento Fidati Dammi retta Vedrai che cambierà tutto Andiamo avanti Uomo di 17 anni Questa sera sono uscito a fumare in balcone Completamente nudo Complimenti E' stato bello E' stato rilassante E non mi ha visto nessuno Ma anche se fosse Detto sinceramente Ho il pisellino abbastanza piccolo E quindi da lontano non si sarebbe nemmeno visto Puuu Testa di cazzo Ti preoccupi del tuo pisellino Micropene Formichina Che scammina E' quello che ti preoccupi Ma preoccupati che fumi a 17 anni Imbecine Testa di cazzo A 17 anni che fumi E' una tragedia per il tuo corpo Una tragedia Già quelli che fumano Che sono più grandi Sono dei sacchi di piscio Figurati tu Che fumi a 17 anni Ma non ti vergogni Ma sai cosa ti sta vedendo Nei polmoni Ma ti farei vedere Guarda Te la faccio vedere Guarda Questa è la foto Questa è la foto Di un polmone Che fuma Di un fumatore Guardate i polmoni Di un fumatore Guarda Guardali Guardali Li vedi come sono belli colorati Bene Adesso ti faccio vedere Un polmone sano Così ti rendi conto Di com'è la differenza E voilà Vedi Questo qua E' un polmone sano Mentre questo E' un polmone Distrutto dal fumo E tu adesso Stai andando Nella direzione A sinistra Vedi bel bamboccio Vedi bel bamboccio Quanto fa bene fumare Ma preoccupati del pisellino Non ti preoccupare Vai avanti così Che vedrai che tra qualche anno L'asma E' un problema cardiaco I polmoni Collassati Possono accompagnare Solo Non ti preoccupare Bene Ora vi saluto Un bacino Sulla figa Delle vostre sorelline In calore E ci ribecchiamo Al prossimo video